Ma come vengono, ma come vengono, come vengono a pagare. Sì, sì che vedi in Africa, ma non faccia lì su quanto l'aiò, lì vedi in stanza, solle tu, so chi, si vede la dina, tu, 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 si vede la dina, lì vedi la dina, tu, si vede 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 la dina Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì.